Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come aggiornare i driver obsoleti sul nostro sistema operativo quindi i driver su tutti i nostri componenti come driver audio, driver per la scheda di rete e driver anche per la scheda video quindi in questo caso io grazie anche ad Avast, Avast driver updater mi ha rilevato così degli aggiornamenti da fare ovviamente questa è la versione gratuita e non posso aggiornare i driver però grazie anche alle informazioni che mi ha dato Avast driver updater devo aggiornare tip link wireless, realtech, nvidia e driver audio quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare il programma driver easy che è veramente ottimo per scaricare gli aggiornamenti all'ultima versione ci sono i tre piani quindi quello light, pro e tecnico di 99 dollari però noi andremo così a scaricare quello gratuito quindi download andiamo così a installare il nostro driver, driver easy driver easy farà anche un'analisi sul vostro sistema per capire quali sono i driver obsoleti quindi a me l'ha fatto capire Avast quindi a te può farlo direttamente driver easy quindi fai la scansione ora farà così una piccola scansione per vedere quali sono i driver obsoleti da aggiornare ed eccoli qua i driver per la scheda video, driver per realtech audio come questo qua tanti realtech audio ci sono veramente un sacco di aggiornamenti da fare realtech PCA come puoi vedere stesso aggiornamento anche qua sopra quindi per farti un esempio sul driver easy gratuito come scaricare e installare l'aggiornamento manualmente vai direttamente su aggiorna crea manualmente fai continua scaricherà così l'aggiornamento ovviamente questa è la versione gratuita quindi ci sarà un limite al download quindi arriva fino a 50 KB al secondo però come ho detto l'aggiornamento al pro ti aiuterà un sacco quindi scaricando i driver su driver easy ti salverà del tutto quindi aggiornerai sempre i tuoi driver quindi visto che è la versione gratuita dobbiamo installare l'aggiornamento manualmente quindi vai su installa manualmente faccio continua uscirà così la cartella con gli aggiornamenti con i driver dentro copio così il percorso file quindi faccio copia vado direttamente su gestione dispositivi quindi il tasto destro qua sopra vai su gestione dispositivi e vado a trovare l'aggiornamento che devo fare quindi era di real tech pc e gb e family control questo è per il cavo LAN ci clicco sopra faccio tasto destro sopra faccio aggiornamento driver circa i driver nel computer ed eccolo qua e lo inserisco qua quindi in questo caso il percorso file che ho copiato qua lo inserisco qua faccio control v faccio avanti installazione dei driver in corso quindi è lo stesso procedimento anche con gli altri driver quindi io dovrò fare veramente un sacco di aggiornamenti oggi quindi windows ha completato l'aggiornamento dei driver come puoi vedere si è disconnesso e si è riconnesso così il cavo ethernet chiudo qua e ho finito ho aggiornato così il mio cavo ethernet e dovrò fare anche gli altri aggiornamenti quindi la procedura era questa come puoi vedere adesso ce ne sono solamente 3 e non 4 quindi l'aggiornamento per fare così l'aggiornamento dei driver obsoleti era questo il procedimento era facilissimo da fare quindi se non hai capito puoi sempre riguardare la guida per altri problemi ancora puoi sempre commentare sotto al video quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao